Prendere il largo, tornare a vincere, c'è movimento in zona playoff, le altre fanno punti, amici di Sportifili Ciao da Salvo Giraci, benvenuti al Marco Tomaselli di Caltanissetta in Issa, Don Carlo Misilmeri, siamo nella settima giornata del girone A di eccellenza siciliana. La verticalizzazione ottima da parte di Rossi, Semenzin, il pallone dentro, la colpisce male a Gudiak, a battere, allora che giunge a battere il tiro, insiste, va fino in fondo, è pressato il tunnel per il pallone basso in mezzo, a Gudiak si gira, il gol della Nisa, il gol a Gudiak, 1-0 per la squadra di Terranova, dalla centro dell'area Romano si accintra a basso e l'Izai, Antonio Esposito, la squadra di Terranova ad avere il pallone, il tiro, respinto da Zumo, ma la Nisa preferisce andare a sinistra, a Gudiak, Zumo! Pallone recuperato da Gueye, a Gudiak si gira, c'è tanto spazio a favore della Nisa, le crossi in mezzo sul secondo palo, Semenzin! E l'autogol per il 2-0 della Nisa, autogol di Cerniglia! Gueye salta l'avversario, poi si appida a Semenzin, il lancio verso Esposito, area di rigore, pallone dentro a Gudiak! Semenzin, che si infila, il tunnel, ai danni di Federico, Gueye, che molto distanti dalla porta a calza, comunque l'ex Canicati! Poi cerca il passaggio verso Matera, che non viene capito, poi Romano da fuori, proprio Misilmeri, nella sfida a Spra, Accademia Trapani, 0-0! Gueye! Zumo! La tocca, pallone fuori di pochissimo! Semenzin, Luneta, si la gira, prima palla a favore, pagami il servizio per Semenzin! Cross in mezzo a Gudiak! Sempre lui! Iban a Gudiak! La Nisa fa 3-0! Volgore, Unitas Shaka, 1-0, il parziale... Pace! Inizia Don Carlo Misilmeri, settima giornata della gironia di eccellenza siciliana! Qui ci prova la Don Carlo Misilmeri con Pastorella, entrato poco fa! Qui la punizione di Previterra! Zumo! Pallone in diagonale, Zumo ancora, su Tripoli! Pastorella, accanto a lui Federico, calcia a basso! E adesso vede avanzare Cristian Ferrara, passaggio sullo stretto per Pastorella, Luneta, il mancino di Pastorella! Da loro serve dietro Pagano, pensa alla conclusione della distanza! Cosimo Pagano! E la Nisa fa poker! Più di un gol all'interno di una partita! Pagano ha presi 4, colpo di testa all'indietro di Tripoli! Mannino, finta, è finita anche a Geraci Siculo! Qui il tiro da fuori! Provato da Neri! Calcio di rigore per il Misilmeri! Batte Matera contro le Zai! La parata! Chi è le Zai? Ancora non riesce a sbloccarsi! Avanza ancora la Nisa! In aria di rigore Zumo! Una parata su dall'Oro! Mi sa che sale a 19 punti! Ufficiale! Il 4 a 0! Alla Don Carlo Misilmeri! La doppietta di Agudiak! L'autogol di Cerniglia! Nel secondo tempo! Il colpo di Pagano da fuori aria!